Questa festa fa paura! Hai provato il pancia? Wow, quante sirene! Devo entrare! No! Accidenti, sto cadendo! Ehi! Scusa, fatemi passare! Occhio! Oh no! Ehi, sto aprendo gli occhi! Credo che ho bisogno di un po' d'acqua! Cos'è successo? I miei piedi! Li vedranno tutti! Aspetta, non è una sirena! Che schifo! Levatevi! Tu, vieni con me! Così va bene? Avete finito? Questo è il giorno più brutto della mia vita! Non è affatto fotogenica! Di nuovo? Ok! No, detenuta! Ancora una volta! Detenuta? Il mio posto non è in prigione! Non voglio più essere un umano! Ehi! Che cos'è? C'è qualcosa? Cos'è? Una bottiglia! Credo ci sia un messaggio all'interno! Spacchiamola! Wow! Sì! Così! Lista di controllo! Una lista di controllo per cosa? Molto interessante! Credo sia la soluzione a tutti i miei problemi! Diventerò uno sireno! Ma non con queste cose sul mio viso! Addio, brufoli! Accidenti! Quanto pus! Che figura! Ma ehi! È funzionato! Continuiamo! Wow! Bene! Il pranzo è servito! Cosa è stato? Ma che sta succedendo? Cosa sta combinando quella nerd? Detenuta? Dov'è? Ehi! Wow! Ma cos'è questa roba? I pus! Che bella pelle! Oh! Mi scusi, agente! Colpa mia! Wow! Com'è bella! Ed è anche una gran lavoratrice! La donna perfetta! Non riesco più a trattenermi! È così carina! Devo fare qualcosa! Perfetti! E tu stai in silenzio! Come vuoi! Brufoli, addio! Ora devo farmi i capelli! Da sirena! I miei sono così noiosi! Ho bisogno di aiuto! Chi è quello? Ok! È arrivato il momento! Wow! Tu verrai con me! Cosa? Non c'è bisogno di torcermi il braccio! Questi sono per te! Wow! Ma grazie! Andiamocene da qui! Wow! Accidenti! Andateci piano! Che bei fiori! I colori sono perfetti! Ok! Devo solo tirare la sciacquone! Sento che sta succedendo qualcosa! Forza! Ecco! Che bei capelli rosa! Proprio come una vera sirena! Sono stata proprio brava! Ehi! Ma i miei capelli hanno preso vita! La mia chiama è fortissima! Oh no! È tornata! Cosa sta succedendo qui? Quelli sono i miei fiori! Tutto ok, agente? Nel water! Come hai potuto fare una cosa del genere? Me la pagherai! I miei capelli! Molto bene! Continuo così! E adesso guarda! Ho dei bellissimi boccoli! Sul serio! Che ti prendi? Oh! No! Ho occhi solo per te! Ehi! Lasciami andare! Sono innocente! Non sono colpevole! Non sono colpevole! Capito? Alla finita! Non sono colpevole! Ecco! Non sono colpevole! Silenzio! Non sono colpevole! Sitto! Ottimo, direi! Ho un'idea! Oh no! La sua bocca! Eccati qui! Riproviamo! Non sono colpevole! Adesso so come far sparire tutti i miei peli! Addio, peli! Credo che farà male! Ma per essere bella bisogna soffrire, giusto? Come brucia! Non si ferma più! Le lenti! Ma le sirene non portano gli occhiali! Accidenti! Mi devo truccare! Ma dove posso rimediare i trucchi? Aspetta un attimo! Il mio vicino è di Gella! Adoro questa tonalità! Ma si sta truccando! Vediamo cosa riesco a rimediare! Che bella scatola! Sarà mia! Ehi! Dov'è finita la mia scatola? Sparita nel nulla! Wow! Ma c'è di tutto e anche di più! Non sono colpevole! Non sono colpevole! Ti dispiace se prendo in prezzo la tua calza? Non sono colpevole! Questo ha che pazzesco! Devo solo pigiare il colore sul viso! E ora... Ho le squame! Proprio come una vera sirena! Che meraviglia! Wow! Sono ancora legato! Sì, lo so! Guarda che bel bottino! Un diamante! Proprio quello di cui ho bisogno! Ora sì che va meglio! Perché averne solo uno quando se ne possono avere moltissimi? Ti applicherò sul viso! Come ombretto! Pazzesco, vero? Wow! Che belle perle! Perfette per una sirena! Proprio come me! Che figata! Guarda come sono bella! Non sei colpevole! Te l'avevo detto! Ecco la tua roba! Grazie! Proprio come pensavo! Non andrai da nessuna parte! Oh, ma che cavolo! Detenuta! Il tuo pranzo! Cos'è questa robaccia? Ma fa schifo! Ma non c'è altro! Aspetta! Mi manca il reggiseno! Meno male che ho queste conchiglie! Facciamolo! Così sono troppo semplici! Adesso le trasformerò! Ora sì che sono fighe! Ehi, ma guarda! Ci sono anche le alghe! Avrei anche un po' di fame! Oh, mi amma! Cosa? Ma che schifo! Cosa diavolo sta facendo? Il carcere fa un brutto effetto alle persone! La gente! Guardi! Sono una sirena adesso! Non vede? Aspetta un attimo! Hai capelli lunghi! Un reggiseno fatto di conchiglie! Ma aspetta! Dov'è la tua coda? Il mio cosa? Una coda? Santo cielo, come ho potuto dimenticare la coda! Non si finisce più! E adesso? Non vi posso trovare una coda! Ehi! Ho un nuovo regalo per te! Spero che ti piacciono i pesci rossi! Figo, vero? Ho anche del cibo per pesci! Wow! Grazie, tesoro! Sarà il mio nuovo animale domestico! Cosa ci fai tu qui? Sei un pesce magico che esaudisce tutti i desideri! Ok! Hai tre desideri! Ok! Il primo è facile! Sei pronto? Voglio una coda! E voglio che sia bella! Wow! Che meraviglia! Non posso crederci! Aspetta! Che diavolo è questo coso? Non ci posso credere! Nessuno crederà che sono una sirena! Ne voglio una come questa! Vedi? Che bella coda! Puoi andare! Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato! Addio! Ehi! Non vedo niente! Un altro desiderio! Voglio una coda come questa! Ok? Sul serio? Ma è possibile che non ne fai una giusta? Che stupido squalo! Ascolta bene! Forse starai meglio nella fogna! Addio per sempre! Ok, ok! Ti procurerò una coda! Spero sia la volta buona! Wow! Esattamente come la volevo! Una vera coda! Sì! Agente! Aspetta un attimo! Com'è possibile una sirena? Ok! Sei libera di andare! Per me va bene! Una sola cosa! Le sirene amano l'acqua, giusto? Rivela la tua vera essenza! Oh! Sono un vero sirenetto! Vedi? La mia finna ne è la prova! Quindi? Ok! Prova superata! Sì! Ah! Mi scusi! Posso passare? Vediamo! Sono autorizzata a schizzarti con un gavettone per dimostrare che sei una sirenetta pronta! Rivelazione! Rifiutata! In galera! Cosa? Ora facciamo una foto! Guardami negli occhi! Pronta! Ok! Ci passerai molto tempo in cella! Qui? Beh! Sirene ok! Nerd no! Comportati bene! No! La vita è così ingiusta! Mi scusi! Ciao ragazza! C'è qualcosa qui? Niente male! Che cos'è questo? Apriamo! Potrebbe essere un tesoro! Uno specchio! Ehi! Ti aiuterò a diventare me! Ok! Cominciamo con questo! Puoi far sparire questo brufolo enorme! È un'idea brillante! Sì! Mi aiuterai ragazza! Okidoki! Ora il brufolo gigante! Ok! Anche dall'altra parte! Sì! Ah! Adesso ci siamo io e te! Aspetta no! In questo modo è più soddisfacente! Oh no! Upsi! Oh no! 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 È la mia occasione! Questo potrebbe essere lo strumento giusto! Scopriamo se funziona su questa serratura! È un po' complicato ma non impossibile! Che cosa ci fai qui? Stavo solo andando a letto! Oh! È così intelligente! Bene! Tanto vale farci qualcosa! Accidenti! Mi sto arrossando! Ho un sacco di peli! Ok! Vediamo! Ah! Ok! So cosa fare! Cos'altro c'è in questa cosa? Palette di ombretti! Ottimo! Questo dovrebbe bastarmi! Anche in prigione si può riciclare! Per qualcuno è spazzatura ma per me è un tesoro! Che bello! E ora un po' di creatività! Strano! Beh! È ora di pranzo! Mi serve la mia dose di olio! E adesso il prossimo passo! Applichiamo l'ombretto! Cominciando col colore delle alghe! Spennelliamo delicatamente sulla guancia! Quasi fatto! Ora togliamo e... Guardate voi il risultato! Che ne pensate? Naturalmente ci serve anche qualche gemma! Le perle dovrebbero andare benissimo! E ora una bella doccia! Le perle non sono solo per le collane! Sono l'elemento essenziale per la doccia! Che lusso! Wow! Non ricordo di essere stata assegnata a un lavoro con i mulini a vento! Anche un robot si sente esausto! Oh! Me lo ricordo! Bello! Oh! Mi dispiace! Che stavo facendo? Fammi pensare! Stavo finendo di truccarmi! Mi serve uno specchio! Fermo qui! E adesso mi serve qualcosa dall'oceano! In qualche modo l'oceano si collega a questa toilette! Questo è qualcosa che viene da lì giusto ed è ciò che mi serve! Via gli occhiali e indossiamo la conchiglia! Curva perfetta per fare gli occhi! Vediamo! Wow! Wow! Mi sento già favolosa! Lo so! Ehi ehi! Vieni qui! Cosa? Guarda! Sono una vera sirena! Controlliamo! Sì! Guarda la mia fassa! No, no! Non si passa! Cosa? Controlla di nuovo, fastidioso robot! Calmati! Modalità dormita attivata! È la mia occasione! Oh sì! Questa è la chiave! Spero non ti spiaggia! Ecco qui la chiave per la mia libertà! Una ragazza che riesce a liberarsi dalle catene può essere libera! Sì, sì! Oh! Attivata! No! Non lo farai! Sono libera! Eh? È chiusa a cosa? Presa! Oh no! Torna al tuo posto! No, no, no! Robot antipatico! Ora facciamo i capelli! Cosa? Lo so! Non indovinereste mai che cosa c'è all'interno di un grazioso scrigno rosa argenteria! E adesso renderemo i capelli favolosi! Delicatamente ciocca per ciocca! La bellezza richiede tempo, sai? Cosa? No! Che giornata infernale! I miei capelli sono ancora qui! Ah, mi prendi in giro? È solo uno scherzo! Tu prendi questo! Oh, disgustoso! Ho vinto! Che cos'altro posso fare? Un gancio! Cosa? Una canna da pesca? Lo so! Peschiamo la chiave con questa canna da pesca! Brillante! La vita continua a darmi limoni! Sì? Ah, questa non è la chiave! Riproviamoci! Cos'è stato? Ok! Oh, non è ancora la chiave! Ultima occasione! Uh! Oh, andiamo! Credo che siano i miei capelli, ridammeli! Eh, mi spiace, ciao! Che cosa ci faccio con questi? Momento di illuminazione! Questo potrebbe funzionare per un altro accessorio da sirena! Disegniamo il modello e... Ta-dan! E... Boom! Oh, fantastico! Riuscite a indovinare? È un orecchio fantastico, visto? Serve qualcosa per fissarlo alle mie orecchie! È una struttura per tenerle in piedi! Bello! Wow! Ora aggiungiamo qualche dettaglio! Un altro giorno, un'altra pioggia di perle! Fantastico! E adesso mettiamolo in funzione! Sembro abbastanza una sirena? Sono un genio! Grazie! Ciao! Ah! Tu! Dolore doppio, catena doppia e il lucchetto più grande! Non mi piace il mio abbigliamento, è così noioso! È davvero un bel colore! E si abbina perfettamente alle perle e il mio spirito da stilista interiore è qui! Penso che le sirene siano fatte di smeraldo e perle! Wow! Dov'è la tua coda? Pensa di poter fare un'eccezione? Beh, forse! Sei sicura? Non la chiave, ma la coda! Questo è il tuo massimo! Davvero? Aspetta! Un'altra idea geniale! Wow! La vita di una sirena è tutta incentrata sulla ricerca di una bella coda lucente! Ho ragione! Sono una vera sirena! Oh! Wow! No, è una coda finta! Volevo solo essere una bella sirena! Ma guarda un po'! Una conchiglia magica! Il potere della sirena della conchiglia! Megan! Sì, sto arrivando! Sono qui! Cosa vuole, signorina? Lasciami uscire! Sì, signorina! La faccio uscire! È libera di andare! Wow! Va bene! Wow! Oh! Il mio sedere! Oh! Megan! Portami con te! Sì, signorina! Wow! Andiamo, signorina! Wow, grazie! Wow! Finalmente il mio sogno si è avverato! Wow! Una nuova sirena! Bisogna avvicinarsi! Wow, sei così bella! Aspetta un attimo! Perché l'hai fatto? Non sei una vera sirena! Ciao! Ma... Ma... Cosa? Non posso perderlo di nuovo! Amami! Oh! L'amo così tanto! Coditi il tuo drink! Beh, sì! Questa è quella che io chiamo vita da sirena! Con questa conchiglia sarete tutti sotto il mio incantelio! Oh! Eh? 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 La mia conchiglia magica! Oh! Oh! No, 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 no! Aspetta! Oh! 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 No, no, no! Devo risolvere il problema! Andiamo! Ecco, sì! Forza! No! Non ha funzionato! Sono umana! No! Accidenti! Questo è un incubo! E questa che cos'è? Una check-in? Ma guarda! So che cosa fare! Cominciamo con il make-up! Oh! È enorme! Ciao, ciao! Ci vorrà un po'? Wow! Una perla! Per fortuna ho un sacco di brufoli! Che bello! È davvero carino! E adesso un po' di tè! Tutti questi brufoli mi hanno fatto venire sete! Affogo queste perle nel tè e siamo a posto! Naturalmente mi servirà una cannuccia! E adesso il mio bubble tea è pronto! Che bello! Oh! Oh! Che schifo! Ma che cos'è? Una lufa! Wow! La userò per truccarmi! Per prima cosa la metto sul viso così! E poi un pochino di glitter! Che bello! Ne metterò un po' sul mio... Ma è vuoto! Che cosa devo fare? Aspetta un attimo! Lo so! Aiutami piccola creatura! La situazione sarà molto tesa! Wow! È la tonalità perfetta! Me ne serve solo un po' di più! Perfetto! È proprio quello di cui ho bisogno! Fargerò i brillantini sulla mia fronte! Poi passo alle guance in questo modo! È così bello, vero? Ah! Questo lucchio di tendenza ad amare! Bellissimo! Guarda che dettagli! Oh! Ma manca qualcosa! Ho ancora dei brillantini! Lo so! Mmm! 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 Mua! Ah! Molto bene! Oh! Ah! Ah! Ciu! Oh! È stato un bel colpo! Oh! Oh! Musica! È ora di mettere su un po' di musica! Novecentoundici! Se mi fai piangere novecentoundici! Wow! Adoro questa canzone! Wow! Oh! Oh! Ma che... Oh! Che cos'è? Posso usarlo? Sì! Ma spazzoliamo prima! Ah! Ti piaccio adesso? Ho dei bellissimi capelli, vero? Oh! Vediamo la checklist! Trucco! Fatto! Capelli fatti! Rimane l'outfit! Facciamo una ricerca online! Come realizzare una coda da sirena! Oh! Sembra abbastanza facile! Dammi cinque minuti allora! Faccio un pochino di bricolage! Per prima cosa, essendo la borsa così! Qui si mescolano tutti gli ingredienti! Spero c'è abbastanza grande per tutte queste scale! Devo assicurarmi che ce ne sia abbastanza per la mia coda! E adesso mescoliamo! Plessi le braccia, sto arrivando! Mi raccomando, copri tutto! Deve venire bene la sirena! Wow, che bello! Oh, ho un'idea! È stato divertente! Oh, questo che cos'è? Oh, wow! La barba di Poseidone! Da provare! Sorridi per la fotocamera! Oh! Oh no! Oh, ecco che arrivo! Eccolo, lo vedo! Presto sarai a casa! Ti salverò, piccolina! Fatto! Di a... Ora sì che sono bianchi! Fatto! Sono pronta a conquistare la terraferma! Oh, oh! Aspetta un attimo! Che cos'è questo? Non è un trucco magico, ragazzi, Aya! Oh! Come ci sono arrivate le alghe là dentro? Oh! Au! Au! Qualcuno ha ordinato insalata di mare! Tu vieni con me! Che cosa? È un segno di Poseidone! È proprio ciò di cui ho bisogno! È ora di cercare il tesoro! Eww! C'era dentro questo schifo! Meglio! Ora devo fare anche il naso! Infilati bene lassù! Oh! Accidenti! Oh no! Oh, Timmy! Oh, mi dispiace tanto! Che cosa hai detto? Un bacio! Aya! No! Non di nuovo! Tu vieni con me! È ora di darci un taglio! Oh! Ah! Aya! Ah! Beh, proviamo di nuovo! Ora va molto meglio! Eh! Ho finito! Così liscia! Wow! Ma guarda che baffi! Non voglio mica sembrare Jason Momoa! Che figo! Eh! Sono bellissima! Ah! Oh! Aya! Accidenti! Oh! Mi ricorda la grande barriera corallina! Devo sbarazzarmene! No! Ho bisogno di un piano migliore! Oh! Questo va bene! Ah! Sì! Inizierò con la schiuma da barba! Ma ce ne vorrà un po'! Ora per il rasoio! Bisogna fare molta attenzione a filato! Ah! Fatto! Evviva! Mi sento come nuova! Ah! Dei visi? E ce ne sono più di uno! Quali posso scegliere? E abbiamo un vincitore! Ora mi cambio la faccia! Iniziamo! Inquietante direi! Pronti per la grande rivelazione? Ah! La regina del mare di TikTok è qui! Eccomi qua! Dunque! Ho bisogno di una nuova acconciatura! Ah! Penso di avere un piano! Ah! Ah! Oh! Oh no! Devo fare qualcosa! Tu! Li sistemerò! Non è così facile come sembra! Ah! Oh! 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 Non funziona! Ah! Oh! Ho bisogno di un nuovo piano! Non ho bisogno di un nuovo piano! Chloe! Cosa stai facendo tu qui? Hai bisogno di questa lacca per capelli? Cosa? Grazie! Ciao! Vediamo! Tac! Ok! Bene! Aia! Cos'è? Sì! Splendi luminosa come una pesce lanterna è una canzone sottomarina molto famosa! Adesso diventerò una principessa vera! Sì! Sì! Una regina! Ciao ciao! Oh! Fio! Aspetta! Cosa ho che non va adesso? Oh! Devo fare qualcosa! Cosa! Oh! Oh no! I miei istinti primordiali! Eh... 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 Non mi batterai! Iaah! Tombola! Funziona sempre! Sono un genio o cosa? Non dovete rispondere! Iu! Oh! Eh... Eh... Eh? Ma cos'è questo odore? Oh! Oh! Credo di avere qualche problema con le squame! Iu! Ma so come fare! Questa è la parte superiore del video! Voi seguitevi e godetevi lo spettacolo! Ah! Avrò delle gambe perfette! Intendo coda perfetta! Eh... Sto funzionando! Sto funzionando! Fatto! Oh! Non ha funzionato! Oh! So cosa fare! Hmm... Andate via! Ecco! Staccatevi! Sto diventando piuttosto brava! Eh... Iu! Addio cose schifose! Eh... Sono pronta e sono fantastica! Eh... La pina posteriore è piatta! Chloe! Ho qualcosa per te, tesoro! Ok! Wow! Mi sento un po' come un pesce fuor d'acqua! Ah... Eh... Arrivo! Eh... Eh... Scusa? Ho detto che ho un bel sedere per te! Oh! Oh! Cosa? Eh... Che ne dite se lo provo? Sì! Ora devo solo metterlo! E boom! Dunque... Un po' di glitter non guasta mai! Ah... Sì! Uno ad uno! Proprio niente male! Fatto! Aspetta! Ma voglio metterli! Wow! Lo voglio! Lo voglio! È così che si indossano! È così che si fa sirenetta! Così va meglio! Io? I miei piedi sono così sporchi! Io devo lavarli! Ma guarda che fortuna, eh? Ora devo solo strofinare! Mi ricordano le conchiglie su cui nuoto quando sono a casa! Ora risciacchio i miei piedini! Potrei usare le mani, ma con questo gadget non ne ho bisogno! Evviva! Come sono puliti! E ora... Boom! Protettori dei mari e dei cieli! Datemi i vostri poteri e distruggete i miei nemici! Io vi mando i miei saluti! E vi prego di rendermi ancora più bella! Sì, preghiera esaudita! E ora di catturare quel fastidioso pesce! Eccomi! Piano! Piano! E... Ehi, ragazzo della terraferma! Sei così bella! Avvicinati di più! Che ne dite? Avrò fatto colpo! Entendmi! Certo! Songra! Alla la siamo.